Siamo qui a Penna Billi ai vent'anni di feste. Sottopriamo le notizie a scuole. Ve la diremo subito. Allora, Penna Billi è stata invasa. Delle persone misteriose si aggirano qui per Penna Billi. noi della redazione di AUG le scopriremo e le mangeremo da che pianeta vieni? da terra in questo momento a me lo penso siamo un gruppo di musicisti le salsicce cosmiche da quale pianeta ti trovi? eh? da quale pianeta ti trovi? adesso sono sceso in questo adesso vedremo il prossimo stai imitando qualche persona? la prenderò come un complemento no, sto così da quale pianeta vieni a te? dal pianeta terra buona cosa fate qua? giriamo lo stesso ogni tanto vi scambiate per gemelli a scuola? c'è un gemello è chiaro lei perché è venuta l'artista in piazza? perché è molto bello ci sono molti artisti e le auguro buona giornata e ci vediamo alla prossima grazie 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 perché hai quei capelli? questi? questi mi sono diventati così hai visto? vorrei stare qua con gli artisti in piazza cosa ci fai qui? faccio il giullare per questo sei vestita in questo modo strano? certo da che pianeta vieni? io vengo da un pianeta che si chiama Rossonia 4 dove hanno tutti i capelli come me così di enormi perché sei venuto qui all'artista in piazza? perché sapevo che mi stava riservando un'intervista da un ragazzino molto simpatico ho detto porca marosca non me la posso far scappare questa intervista diventerò famoso grazie seguici su facebook oggi ci siamo molto divertiti ad intervistare queste persone misteriose io penso che dobbiamo smettere il nostro lavoro e andare a divertirci con queste persone anche io anch'io anch'io ciao